Allora, adesso abbiamo un'altra ospite, un'altra artista, lei è stata qui belle volte, scrive, fa spettacoli, è attrice. Questa sera ci verrà a declamare i suoi due lirite, signore e signori, Melania Mollo, e ad accompagnarla con un sottoconto musicale, i maestri Eugenio Alfano e Sergio Di Simone. Allora, ciao Melania, benvenuta, buonasera, sediamo un microfono a Melania. Sì, e ora magari ci spostiamo un po' più avanti, di modo che abbassi. Brava Melania! Ecco, ora ti abbassa esatto. Allora Melania, tu gli occhi, riesci a... Allora Melania questa sera ci leggerà, come dicevo, due poesie sue, una si intitola Via di Fuga, e l'altra, e che tempo fa? Cioè, e che tempo fa? Fa Gald, vela? Allora, guardi maestri, se non vuoi dire qualcosa, mentre loro si preparano? Sì, stanno qua. Buonasera a tutti, volevo salutare tutto il pubblico del Salotto Donizetti, ringraziare sempre il Presidente, il Dottore Negro, con la signora Giuliana, e siamo in chiusura, giusto, con me è il Salotto. Siamo un po' a caldo. Quindi sono contenta che Carmen mi ha invitato per questa serata di chiusura, quest'anno è stato ricco di eventi e Salotto Porta Fortuna, perché mi ha permesso di fare tante belle esperienze, e di anche avviarmi ad un percorso più professionale artisticamente. Dico, quello che sto facendo? Sì, sì, sì. Ho intrapreso un cammino di studio, frequento l'Università del Cinema e dello Spettacolo, nella sede di chiusura. Sì, Porta Fortuna. Porta Fortuna. E quindi mi sta permettendo di arricchirmi anche... Per venire voglia. Anche il bagaglio culturale, perché la passione fino a se stessa poi finisce lì. Invece in questo modo posso anche studiare, sì, perché la tecnica poi serve anche. Grazie. Grazie. Grazie anche i maestri che si sono offerti questa sera ad accompagnarmi. Se lo eliminavo. Se i maestri sono pronti, siete pronti maestri? Sì. Allora, vi lascio Melania Mollo. La prima poesia è Via di Fuga. Faccio una piccola premessa. È nata in merito a un videoclip che è stato messo in onda. È la storia di un musicista. Attraverso questa composizione a pianoforte è nato un videoclip. Dal videoclip è nata questa poesia. Via di Fuga che prende lo stesso titolo. Il tempo, vestito di ricordi passa. Tu, la mia via di fuga. Un pensiero che accarezza ogni istante. Tu, la mia via di fuga. Una forza che mi spinge avanti. Uno sguardo sempre oltre. Tu, la mia via di fuga. Una luce in mezzo al buio. Una stella sempre accesa. Tu, la mia via di fuga. Un amore sempre vivo. Tu, la mia via di fuga. Tu, il sogno, la mia via di fuga sempre. Il titolo di questo prossimo scritto è Che Tempo fa. La interpreto se non riuscita più a farla mia. La interpreto se non riuscita più a farla mia. c'è la pioggia, la tempesta. Tornava spesso il sole nelle mattine d'inverno. Se un pensiero abbracciava dolcemente il risveglio e faceva spesso freddo nelle sere d'estate. Se una lacrima improvvisa accarizzava il viso. Quante nuvole sparse accompagnavano i nostri incontri. Quanti ricordi in quegli attimi fuggenti pieni di primavera. E oggi che i tuoi occhi non incontrano più i miei occhi. Forse c'è sempre lo stesso tempo. Siamo lontani, in un tempo presente. Siamo vicini, in un tempo passato. Ciao, che tempo fa nel tuo cuore? Grazie ai maestri. Grazie Carmen. Grazie a te e questo è un piccolo cadore. Grazie.